Buongiorno e ben trovati a questo primo appuntamento con l'informazione in questa consueta rassegna stampa dove andremo a vedere le notizie più importanti per quanto riguarda i giornali online, i giornali cartacei, portiamo proprio dal virtuale con le pagine online dei maggiori quotidiani nazionali e locali, partiamo dal Corriere.it, ovviamente tiene banco un po' su tutte le testate giornalistiche nazionali e locali la crisi di governo e l'incarico accettato con riserva da parte dell'ex ministro degli esteri Gentiloni e leggiamo proprio dalle pagine del Corriere.it l'articolo relativo proprio a questo tema, governo Gentiloni, Alfano verso gli esteri, i verdignani spingono per pera nella formazione della squadra di governo, Cuperlo respinge l'istruzione, nuovo ruolo per la Boschi, Maria Elena Boschi, ex ministro per le riforme nel governo Renzi. Crisi di governo, Alfano ora è tentato dal Ministero degli esteri, l'incognita delle quattro ministre in bilico, scusate ci sono dei refresh continui online, nella formazione della squadra di governo, Cuperlo respinge l'offerta all'istruzione, i verdignani di Ala spingono per mandare alla guida del di Castero Marcello Pera. Il dato ancora da acquisire è la tempistica esatta del giuramento dei nuovi ministri già nella notte tra domenica e lunedì, infatti telefonate, raccomandazioni e suppliche si sono incrociate e contraddette, ora un'altra nottata senza lista dei ministri consegnata nelle mani del Presidente della Repubblica. potrebbe provocare il crepacuore ai confermati e accendere le speranze per gli esclusi. Fino a domenica pomeriggio il mantra diffuso dalle stanze del PD era quello di un governo quasi fotocopia, piccoli ritocchi e big confermati. E poi c'è un caso Boschi, ovviamente l'ex ministro delle riforme, scusate ripartiamo dal Corriere Punto D, l'ex ministro delle riforme dovrebbe avere comunque un incarico, se non da ministro, da assoluta protagonista comunque all'interno del nuovo governo di Gentiloni, nonostante appunto le riforme stesse siano state bocciate dal recente referendum confermativo. E andiamo allora dalle pagine del Corriere.it a quelle della Repubblica, Repubblica.it, l'apertura è anche qui sul governo, la crisi di governo e l'accettazione dell'incarico da parte di Gentiloni, Paolo Gentiloni, ex ministro degli esteri, scusate lo vediamo proprio nella foto, governo Gentiloni al lavoro, oggi i ministri, Alfano Punta gli esteri, a Boschi nuovo incarico, confermati big dell'esecutivo, Renzi, Incognita, Verdini, stessa maggioranza, opposizioni indisponibili. E andiamo anche qui a vedere cosa dice l'articolo della Repubblica, governo Gentiloni, Alfano Punta gli esteri, per Boschi nuovo incarico, il toto ministro, toto ministri minniti, pronto all'interno, Lotti c'è, il Giglio Magico rilancia, Cooper lo rifiuta, l'istruzione arriva Rossi, Doria, Mazzoni e Zanetti in pista per Ala. E' un segnale di discontinuità con la scelta del maestro di strada Marco Rossi, Doria all'istruzione e molti segnali di continuità con il governo Renzi, a cominciare dalla conferma del cosiddetto Giglio Magico, i fedelissimi dell'ex premier. Si va verso una squadra con dentro Maria Elena Boschi e Luca Lotti, Boschi lascerà i rapporti col Parlamento ad Anna Finocchiario, potrebbe diventare sottosegretaria Palazzo Chigi e ottenere il Ministero delle Pari Opportunità. Lotti rimane alla Presidenza e vede, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, e vede anche la delega ai servizi segreti. Poi c'è il possibile scambio interno-esteri con Alfano, che va alla Farnesina e Marco Minniti alla Viminale. Il rebus dell'ingresso nell'esecutivo di Ala, il gruppo di Verdini, che chiede addirittura due di Casteri. E quindi queste sono le ipotesi su quello che sarà la nuova squadra di governo che dovrebbe traghettare l'Italia, il governo stesso, verso la riforma elettorale per poi andare alle elezioni. Ma ci sono altre importanti scadenze da qui ai prossimi mesi e quindi vedremo quale sarà l'obiettivo di governo, proprio il motivo per cui è stato scelto Paolo Gentiloni e quelle che sono le prossime scadenze e quindi i prossimi obiettivi del governo stesso. Ci sono altre notizie di cronaca. Noi andiamo però a vedere una notizia che arriva dall'Egitto, una tragica notizia ancora attentati. Attentato contro i cristiani al Cairo, colpita la cattedrale copta, 25 morti, esplosione nella zona femminile del complesso. Il Papa, lo vedremo anche le sue dichiarazioni dalle pagine dell'Avvenire, prego per le vittime, copti nel mirino, 40 attacchi, protestano centinaia di egiziani, chiedono dimissione di Al-Sisi. E poi ancora dagli esteri, ancora per la guerra in Siria, Palmira, torna nelle mani dell'Isis, miliziani sorprendono l'esercito di Damasco, Aleppo, emergenza infinita, la preghiera del Papa, il vertice a Parigi, opposizione, si è negoziati senza condizioni. Miliziani dell'Isis hanno riconquistato una parte della città di Palmira che era stata a sua volta riconquistata dalle truppe governative di Damasco e si teme soprattutto, ma non solo ovviamente, ci sono anche i civili in primo piano, si teme che le milizie dell'Isis e quindi proseguano con quella che è la loro opera di distruzione delle opere d'arte a Palmira che sappiamo essere estremamente numerose e importanti per il patrimonio culturale mondiale. Il Fatto Quotidiano Gentiloni lavora la lista dei ministri, i nomi che girano da Fassino a Pera, il governo avrà la stessa maggioranza, però c'è un occhio diverso anche su quello che è l'aspetto del dopo, ovvero una volta che Paolo Gentiloni avrà accettato l'incarico, è la lettura che dà il Fatto Quotidiano al governo sono Gentiloni, banche, pubblica amministrazione equitale, denti locali, i dossier più urgenti per Gentiloni, dal decreto per salvare il Monte dei Paschi di Siena alle toppe sui buchi della riforma Madie e di quella delle popolari. Il nuovo governo deve poi scrivere lo statuto dell'Agenzia delle Entrate riscossione decidendo se abolire l'agio. Per prima cosa la rete di salvataggio per MPS, le modifiche alla riforma delle banche popolari congelate in attesa del pronunciamento della consulta, poi correttivi alla riforma della pubblica amministrazione resi indispensabili da un'altra sentenza della Corte. A stretto giro il commissariamento di Equitalia e la verifica delle competenze degli 8 mila dipendenti da trasferire alla nuova Agenzia delle Entrate riscossione, di cui deve anche essere scritto lo statuto decidendo se archiviare l'odiato agio. Gli enti locali chiedono poi il decreto sulla ripartizione del fondo da 3 miliardi creato dalla manovra. E quindi tanto lavoro per il neo Presidente del Consiglio e poi ancora la vicenda, come vede protagonista ancora il Monte dei Paschi di Siena, BCE apre inchiesta su fuga di notizie. La decisione del Consiglio di Vigilanza sulla richiesta di Siena non era ancora ufficiale. No della BCE al rinvio dell'aumento di capitale vertici della banca. Andiamo avanti. E poi ancora tragedie in Africa, in Nigeria, due bambini kamikaze si fanno esplodere in un mercato di Maedguri. Invece c'è un blocco e un refresh. Allora lasciamo il Fatto Quotidiano e la cronaca che stavamo leggendo dal Fatto Quotidiano. Andiamo su Avvenire e parliamo di quelle che sono le parole del Papa da All'Angelus per la Siria. Una scelta di civiltà, sì a pace, no a distruzione. Non dimentichiamo Aleppo, questo è l'appello del Papa All'Angelus in cui ha chiesto di fare una scelta di pace per tutti coloro che stanno soffrendo a causa della guerra e della distruzione. E c'è una crisi umanitaria, i profughi, la metà degli abitanti, dice ancora l'Avvenire. Andiamo ad approfondire questo argomento che affronta proprio avvenire sulla tragedia che non c'è solo la guerra, quindi coloro che vivono ogni giorno le bombe che sono la conseguenza delle continue guerre che si stanno ancora svolgendo al Medio Oriente, ma c'è anche quella dei profughi. Il Libano ancora senza governo e quasi senza frontiere ha aperto naturalmente le porte a chi fugge. L'accoglienza fa parte della nostra storia, in particolare della Chiesa Maronita, perché noi stessi siamo stati profughi, afferma l'arcivescovo Camille Zeytan. Ma adesso, aggiunge ironico, il Libano è diventato un hotel gratuito. Le cifre fornite da Caritas Libano non hanno bisogno di commenti. I profughi siriani registrati dall'ACNUR sono 1.300.000, a cui ragionevolmente ne vanno aggiunti 300.000 non registrati. I profughi palestinesi sono 500.000, mentre gli altri lavoratori stranieri, in gran parte asiatici e africani, sono 400.000. Questo significa che con una popolazione di 4 milioni di abitanti i profughi rappresentano il 50% della popolazione. Inoltre, secondo una recente statistica, i libanesi al di sotto della soglia di povertà sono 1.200.000, spiega padre Paul Karam, presidente della Caritas libanese. Quindi è una tragedia nella tragedia. Un'ultima notizia che vi voglio far leggere, voglio evidenziare, dalle pagine dell'avvenire, ma in generale dalle pagine online, dei quotidiani virtuali, quotidiani online, arriva sempre dall'Africa, dalla Nigeria ancora in questo caso, crolla il tetto di una chiesa evangelica, circa 160 i morti. Quindi un disastro che ha provocato tantissime vittime e lo vediamo proprio nella foto riportata sull'avvenire. Il tetto della chiesa dove stavano ovviamente pregando tanti fedeli è crollato e ha provocato ovviamente tante vittime. Lasciamo i quotidiani nazionali con politica nazionale e politica estera. Andiamo invece sulla voce della montagna, il quotidiano online della montagna pistoiese che riporta quanto avvenuto nella zona dell'Appennino con un vasto incendio che ha colpito l'aria tra Cotigliano e il lago Scaffaiolo e Lizziano Pistoiese, una vasta area di alcuni ettari che sono stati letteralmente bruciati, prati e aree anche coltivate a mirtillo e comunque aree boschive che sono andate in fumo. E qui c'è una foto del voce della montagna appunto esaustiva su quello che è poi la conseguenza delle fiamme. Praticamente un'area letteralmente bruciata e quindi diventata nera invece del verde rigoglioso di quelle zone. E appunto è su questo che si sofferma la voce della montagna. Il giorno dopo l'incendio i prati trasformati in un manto nero. Il day after nella fotogallery effetti dell'incendio che ha colpito la montagna pistoiese. Fra la montagna su altri aspetti dell'incendio abbiamo chiuso il rifugio e poco dopo abbiamo visto le prime fiamme. Sono le testimonianze dei gestori del rifugio a lago Scaffaiolo. Uno dei gestori del Duca degli Abruzzi a lago Scaffaiolo racconta l'incendio di venerdì notte. Il mio socio è rimasto da luna alle 4.30 sul crinale del cupolino a controllare la situazione. I danni ambientali soprattutto alle mirtillaie sul versante Toscano quasi tutte bruciate. Confermata la portata straordinaria dell'episodio non ne ricordiamo uno così vasto con tanti punti di accensione e in pieno inverno. La mancanza di vento e gli interventi di spegnimento hanno impedito che i roghi arrivassero fino al bosco. Infatti in un primo momento è stato ipotizzato anche l'origine dolosa dell'incendio proprio per questo fatto evidenziato sulla voce della montagna ovvero dei roghi che sono scaturiti in vari punti dell'aria che poi ha preso fuoco. E ancora sull'incendio intanto sono queste le due foto riportate dalla voce della montagna l'elicottero che è intento a spengere, a buttare, a gettare acqua sull'area incendiata e invece poi qui le fiamme, il fumo che è stato visto e visibile, è stato visibile anche da chilometri per quanto riguarda appunto l'incendio. Fra Ladoganace e Lizzano un incendio devastante, mai visto uno di queste dimensioni. Il racconto dello scrittore Federico Pagliai sugli oltre 20 ettari di prati e boschi è andato in fumo colpita la zona fra il monte Spigolino e le Verdianelle. Le sterpaglie secche hanno aiutato al propagarsi delle fiamme, contenuto solo dall'assenza di vento. Ingenti i danni, interi pendii coperti di mirtillaie, incenere e praterie devastate, diversi i punti di avvio del fuoco, probabile l'origine dolosa. Le squadre dei vigili del fuoco di quattro province in azione per tutta la notte di venerdì e la giornata di sabato 10. Impegnate anche due canader della protezione civile. E lasciamo le cronache che arrivano dalla montagna pistoiese e con i danni ci sarà da capire intanto se l'origine è veramente dolosa oppure c'è un'origine colposa per disattenzione da parte di qualche escursionista o chi per lui oppure se c'è stata la volontà di provocare l'incendio e quindi anche le motivazioni che hanno portato a questo. Vedremo poi nei prossimi giorni. Lasciamo la Voce della Montagna quotidiano online e andiamo sulle cronache nazionali e poi locali però dalle pagine della Nazione del Tirreno, quindi giornali cartacei, gentiloni governo sprint, titola La Nazione nella sua pagina del quotidiano nazionale, le tappe del Presidente incaricato, oggi la squadra, poi il colle, mercoledì la fiducia. Maggioranza immutata, faciliterò una nuova legge elettorale, questo è il virgolettato riferito proprio al Presidente incaricato Paolo Gentiloni. La fotonotizia vediamo il Presidente uscente Matteo Renzi, il colloquio, Renzi non avremo più uno che governa ma tutti che inciuciano. È tornata la prima Repubblica. In taglio alto invece due notizie che arrivano da Pistoia, Cornicione crolla in centro, terrore tra la folla e poi la cronaca invece per quanto riguarda i permessi falsi ai cinesi, altri studi professionali finiscono nel mirino. Si parla anche di Monte dei Paschi, di spalla, sempre sulla prima pagina della Nazione, Monte dei Paschi e le altre per le banche un decreto da 15 miliardi. Quindi l'intenzione del Governo è quello di salvare il Monte dei Paschi. In ballo ci sono oltre che tutti i crediti e tutti ovviamente la stessa importanza della banca, ricordiamo la più antica banca d'Italia e poi poi anche tutti i dipendenti, quindi tutti coloro che ci lavorano per scongiurare situazioni più critiche. Dalla cronaca locale di Pistoia Montecatini, ho visto i calcinacci cadere giù, si torna a parlare del cornicione caduto in Piazza San Francesco, terrore addirittura, titola La Nazione. In Piazza San Francesco crolla un cornicione, tragedia sfiorata, 5 auto danneggiata. Qui c'è una fotografia del cornicione, i vigili del fuoco e i danni che ha provocato sulle auto. Ne abbiamo parlato anche nel nostro notiziario di ieri sera, nel corso del telegiornale, due foto, la seconda è proprio con i vigili del fuoco a lavoro in Piazza San Francesco e i detriti a terra e le auto danneggiate. Da Montecatini una serata di gala per le forze dell'ordine, lo vedremo nelle pagine interne e tornando a quello che è stato il cornicione caduto, ieri sera intorno alle 18.45 si sono staccati complessivamente 30 metri di sottotetto. Tra le possibili cause la palazzina ristrutturata di recente è in buono stato. Centra il guano dei piccioni, si chiede la Nazione e dovranno stabilirlo i tecnici dei vigili del fuoco. È una ipotesi, ma probabilmente non è quello, perché il guano provoca problemi, ma non dovrebbe provocare il crollo dei cornicioni. Un'indagine sulla pagina 3 della Nazione di Pistoia, sui permessi falsi, altri studi nel mirino, la procura, giudizio immediato. Consulente del lavoro pistoese ancora in carcere, oggi il riesame. C'è un nuovo filone su questa indagine, Filippo Rosini è in galera, intanto i magistrati mettono nel mirino altri professionisti. Accelerata per l'inchiesta, si legge nell'articolo di Sara Bessi sulla Nazione, l'inchiesta Colletti Bianchi con la procura pratese che sta per ampliare l'indagine su un sistema, quello dei documenti falsi, dietro compenso per ottenere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno, che potrebbe essere praticato anche in altri studi professionali. Il che significa che la procura sta per aprire un nuovo filone di inchiesta dopo gli arresti del consulente del lavoro pistoese Filippo Rosini e del commercialista veronese Alberto Robbi, avvenuti il 16 novembre scorso. Si va a parlare invece sempre dalle pagine della Nazione, sulla collina pistoese, Valle dei Buri, ecco l'elisoccorso, è una notizia importante che arriva proprio da quell'area, via i lavori per l'area di atterraggio, si sblocca la procedura per il terreno nella frazione di Greti, la spesa verranno investiti 8 mila euro per la riqualificazione, Pegaso non avrà problemi, l'intervento, la zona alla fine sarà completamente perimetrata e recintata. Si concretizza quindi, si legge in taglio alto l'accordo fra il Comune e i comitati per garantire un'assistenza sanitaria di alto livello con tempi di intervento rapidi in zone meno accessibili. Una lunga attesa, il progetto risale a quasi un anno fa, c'erano stati anche dei sopralloghi, ma il via libera definitiva è arrivato soltanto in questi giorni, quindi un via che dà la possibilità poi ai soccorsi di essere più celeri, più tempestivi e quindi la possibilità eventualmente di salvare vite umane, quindi un'importante e buona notizia che arriva dalle colline pistoiesi. Invece da Montecatini arriva un'altra notizia e c'è un'accelerazione o perlomeno un proseguo di quelle che sono le tempistiche per la realizzazione del nuovo commissariato all'ex casa di riposo di Viale Ado a Montecatini, commissariato si stringono i tempi, aggiorni il bando, lavori nel 2017. Il sottosegretario Alfano ha visitato la futura sede di Viale Ado e qui vediamo la foto con alcuni rappresentanti della polizia del commissariato, con la vicequestore Mara Farasin, insieme al sindaco Giuseppe Bellandi, al sottosegretario Alfano e al deputato Fanucci. Lo stesso Fanucci che dice ho depositato una risoluzione parlamentare per chiedere più agenti di polizia in organico. Nelle scorse settimane, dice appunto il parlamentare Montecatinese, ho depositato una risoluzione parlamentare per chiedere l'aumento del numero dei poliziotti in organico sul nostro territorio. Per il nuovo commissariato sono stati stanziati dal comune di Montecatini Terme 24 milioni di euro. La gara di affidamento ai lavori per la costruzione sarà pubblicata entro il 31 dicembre e i lavori cominceranno prestissimo nel 2017. Quindi una buona notizia anche per il presidio che dovrebbe sorgere, a questo punto dovrebbe essere quanto mai concreta la possibilità che sorgerà il nuovo commissariato nella zona alta di Montecatini che sarà complementare con il presidio dei carabinieri nella zona più bassa in via Tripoli. Serata di gala per le forze dell'ordine, sempre da Montecatini, grande protagonista di sport e cultura al Teatro Verdi, riconoscimenti consegnati da famosi campioni, ospiti speciali. L'iniziativa è dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione Oreste Bertoneri. Qui vediamo la foto con la premiazione da parte dell'ex campione nazionale e capitano della Fiorentina Giancarlo Antonioni al presidente del CONI Pistoiese Gabriele Magni, nonché assistente capo della Polizia che è stato premiato dallo stesso Antonioni e da Mauro Ciavardini, ex dirigente della questura Pistoiese. Lasciamo le pagine della Nazione, le pagine locali, andiamo sulla prima pagina del terreno, solo per leggere i titoli principali e poi andremo nella cronaca locale. Per chiudere poi con lo sport, scippata dell'orecchino, una notizia che arriva da Prato, Prato una settantenne è rimasta ferita dallo strappo e vediamo qui la protagonista della vicenda, purtroppo triste per lei, dello scippo che è avvenuto appunto a Prato. Il ponte festivo invece si parla di turismo per quanto concerne Pistoia e Capitale della Cultura, da segni positivi appunto per il turismo e poi invece da Montecatini, guarda caso, si parla di terme, ricavi in picchiata, il bilancio fa registrare un meno 15% e dal benessere arriva troppo poco. E c'è la contrapposizione tra Montecatini e Pistoia, una contrapposizione che arriva purtroppo sempre più spesso e ormai da troppo tempo, tra il calo invece che sta arrivando sia di turismo termale che anche di altro tipo di turismo nella zona di Montecatini invece il continuo aumento di turismo che sta proseguendo a Pistoia anche in virtù in questo caso del prossimo arrivo a Pistoia della Capitale della Cultura, come Pistoia della Capitale della Cultura 2017. Gentiloni in prescelto, in taglio alto, un governo con vista sulla legge elettorale, accettato l'incarico con riserva e poi andiamo un po' in su, un po' in giù, andiamo in taglio basso dove Flex si arrende alla Betaland, una brutta sconfitta in terra di Sicilia e invece una bella vittoria contro il Racing Roma per la Pistoiese, gli arancioni calano il Tris con Racing e allora andiamo a leggere le pagine locali del terreno partendo proprio dalla cronaca di Pistoia, weekend dell'Immacolata, ponte con turisti e cresce l'attesa di Pistoia Capitale, tutti d'accordo, le presenze sono in aumento, specie dal nord, atmosfera e offerta culturale. E di spalla leggiamo proprio una tabella che riassume quello che va e quello che non va a Pistoia, cosa va? Dice il terreno, innanzitutto cosa c'è di positivo? Sono la città che è dalle dimensioni umane, la seconda è la vita serale animata, quindi l'offerta per la movita e la movita in terza analisi mette l'offerta culturale ricca, invece cosa non va? Secondo sempre il terreno, la mancanza di informazioni sul programma di Pistoia Capitale della Cultura, la carenza di servizi igienici pubblici e la mancanza di segnaletica per i monumenti e non sono cose da poco per quanto riguarda l'offerta turistica pistoiese. Tante le richieste di informazioni sull'iniziativa per il 2017, ma il calendario dettagliato ancora non c'è carenti cartelli per i monumenti e l'abbiamo visto proprio nella tabella che riassume schematicamente i pro e i contro di Pistoia Capitale o quello che sta invitando appunto e accompagnando la città a Pistoia Capitale della Cultura dal 1 gennaio. Crolla pezzo di cornicione, danni solo alle auto in sosta, sfiorata la tragedia ieri pomeriggio in piazza San Francesco è venuto giù un fronte di una trentina di metri, nessun passante per fortuna è stato colpito. Qui vediamo proprio anche da dove i calcinacci e il pezzo di cornicione è caduto, una palazzina molto alta, appunto una trentina di metri, qui gli effetti della caduta sulle auto, fortunatamente senza aver coinvolto i cittadini, nessun passante. Da Campotizzoro rubata la Madonnina del Balzaccio nella notte manomessa all'edicola che si trova al villaggio Orlando, la statuetta raffigurante la Madonna incotto e realizzata da Domenico Ferrari nel 1890 per grazia ricevuta. Chiudiamo con la cronaca da Montecatini, ricavi impicchiata a meno 15%, dal benessere una miseria è l'esito dell'indagine sul flusso turistico a Montecatini e soprattutto su quello che sono i risultati della riorganizzazione delle terme che stanno cercando di mettere in atto, soprattutto la nuova dirigenza con l'amministratore unico Carlo Brogioni che spiega dalle pagine del Tirreno carenza nella ricerca delle strategie dovuta all'impegno nel gestire il quotidiano, visite turistiche battono le visite mediche. Fortunatamente in questi giorni a colmare il flusso di turisti che manca per quanto riguarda le cure termale c'è la città del Natale che sta offrendo un'offerta turistica interessante e importante che sta facendo arrivare tante persone, tante famiglie in città. E tra le altre cose parlando di Natale c'è stata ieri domenica mattina una tradizionale corsa a Montecatini, babbi e mamme Natale, mamme perché c'erano anche delle atlete vestite da babbi Natale, di corsa per Montecatini. Qui c'è la foto alla partenza, poco prima della partenza. In 600 hanno partecipato alla maratona camminata partita dal piazzale dell'Ippodromo, alla fine pasta party curato dai ragazzi dell'Istituto Martini. A proposito dell'Istituto Martini chiudiamo con questa notizia, cioccolatini dall'alberghiero Montecatini all'alberghiero Martini gli studenti fondano un'impresa, produrremo cioccolatini con la consulenza di Slitti. L'obiettivo, la felicità dei clienti, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Pistoia sarà illustrato in querceta nel pomeriggio alle 16 e terminerà a maggio del 2017 con una competizione regionale. Il regolamento sarà illustrato dal dirigente scolastico Riccardo Monti. Quindi una bella iniziativa che prone e propone l'Istituto Martini. A questo punto non c'è più tempo neanche per parlare di sport. L'avete visto comunque la Pistoese che ha vinto al Melani contro il Racing Roma rifilando tre gol alla squadra romana, invece la brutta sconfitta della Veflex in quel del terreno, in quel di Sicilia a Capodorlando, perdendo nettamente. Non c'è più tempo quindi grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione da non mancare per tutti gli approfondimenti con il nostro notiziario alle 14 e 20. A più tardi. Grazie. Grazie.